Ha cambiato che la situazione è sempre più grave, purtroppo anche le forze dell'ordine e la sicurezza in generale hanno subito dei tagli importanti sin dagli ultimi anni, con le ultime finanziarie, anche recentemente con la spending review ci sono stati ulteriori dei tagli, per cui il sistema sicurezza è a rischio, oltretutto la penetrazione, le infiltrazioni mafiose nei nostri territori è ormai più che decennale e le forze dell'ordine si trovano in disagio, in forte disagio, perché non hanno gli strumenti per combattere quello che in questo momento è l'azienda più importante a livello mondiale e globale che è la mafia S.P.A.